Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi è venerdì 23 E dato che Ilaria oggi non lavora E' una bellissima giornata E ancora non sono andato a Castelluccio Oggi andiamo a Castelluccio Direction Castelluccio di Norcia A fascia di una bella magnata E a vederci un bel posto e sta tranquilli un po' in relax Bene bene bello bello E quindi niente adesso andiamo verso Civita Così la andiamo a prendere e si parte E niente ragazzi ci vediamo appena arrivo su Civita Che prendo Ilaria tanto ci vorranno una ventina di minuti Poi più o meno A tra poco E siamo arrivati ragazzi Eccola Ilarietta Spachi Bello Bello Spachi Saluta Ilaria del futuro Spachi saluta Spachi del futuro Andiamo a andare a prendere Vai vatti a mettere Sì Aspetta che prendo le chiavi Niente adesso si sistema e andiamo ragazzi E si parte Andiamo a prendere A mezzo a strada si è fermato Dice sono io il re della strada Abbiamo fatto un rifornimento e mo ci fermiamo a fare colazione Appena vediamo un pavo che è bar pasticceria Voila, mettiamo qui Succhetto preso, Ilaria si è presa il caffettino e un cornetto con la crema E mo si riparte Arrivo previsto per mezzogiorno e un guarda Sono le ore 10 e 22 Questa ha la freccia anche agli indiani E va buono E va buono Eh sta strada è uno spettacolo comunque eh Proprio figa Gagla Alla prossima Reno la corsia loro questi non sanno che vuol dire io anche non ho parole devono per forza venire dall'altra corsia due generazioni ma la stessa auto panda 4x4 si muore da eroi e la nuova panda grazie che ci fa passare grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti i tornantini qua ci stanno belli belli grazie a tutti 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 Siamo tutti dall'altra parte Do ci sta il rettilineo lungo Vabbè ci sta dai Una strada diversa Eh pure questa è bella Ma pure quell'altra è bella De strada Sono belle tutte e due Siamo arrivati a Castelluccio E mo vediamo Dove si potrà andare a mangiare In teoria io vorrei andare a Taverna Castelluccio Che dove siamo stati la volta scorsa E si mangia bene Mo vediamo tra poco Cominciamo subito con un antipastino Leggero leggero Da dividere in due Tu che te sei presa mo? Io ho messo i tortelloni Tortelloni e io mi sono preso I stringoni I stringoni Come cazzo si chiama Quelli lì Col pesto di Un nome strano Con ricotta e guanciale Crocchiante È croccante Come sta antipasto e sto vino È croccante È la borsetta per mantenere il vino fresco Il panorama Te Piede sto scorcio Ah ragazzi Siamo appena usciti dal ristorante E siamo due mongolfiere Su una Ducati Ridi eh Però abbiamo mangiato veramente Veramente bene Poi oggi si sta in uno spettacolo C'è un venticello Che giornata ragazzi Che giornata E adesso torniamo Da quest'altro versante Che anche qua La strada è carina Eh Poi ci fermiamo Per la foto di Rito Qua sotto Guarda qui Vedi Un po' di fioritura Qui c'è C'è un venticello ma io sto a posto cioè non ci ho buttato però sto a posto che macchinetta ma io sto a posto ragazzi per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao